qualche momento perché vi possiate collegare al canale corretto dell'interpretazione, ma come prima cosa buongiorno a tutti e benvenuti e buona settimana a Laudato Seed. Siamo già nel corso di questa settimana a Laudato Seed, è davvero difficile crederlo. Io sono Sara Mandel, supporto la piattaforma di iniziative Laudato Seed da Indianapolis, Stati Uniti e oggi vi do il benvenuto a nome della team che ha creato questo webinar. Il team innanzitutto della piattaforma di iniziative Laudato Seed che è un progetto della di Castello Vaticano per il servizio dello sviluppo umano integrale con il sostegno del movimento Laudato Seed che è il suo partner operativo. C'è poi la collaborazione del team della Commissione Giustizia, Pace e Integrità del creato delle Unioni Superiori Generali in Maschili e Femmili, in particolare attraverso il progetto Seminare Speranza per il pianeta. Ogni mese organizziamo un webinar per sopportare i partecipanti della piattaforma nel loro viaggio di ecologia integrale attraverso relatori che condividono la loro esperienza e il webinar di oggi sottolinea l'importanza del settore religioso e si intitola voci di fede e di speranza ai religiosi cattolici nel mondo nel cuore dell'azione per il clima. Speriamo che possa essere una celebrazione per la settimana Laudato Si è un'ispirazione per tutti voi. Questo mese stiamo utilizzando Zoom Meeting in modo che tutti possano vedersi e sentirsi parte di questa comunità globale. oggi abbiamo così tanti partecipanti che alcuni di voi si sono dovuti connettere attraverso la trasmissione live stream dell'evento su YouTube. Per chi però è qui su Zoom? Vi chiediamo di tenere il microfono spento e se non l'avete già fatto presentatevi nella chat con il vostro nome, paese e condividendo qualcosa che vi dà speranza per il nostro pianeta. Prima di invitare i rappresentanti della piattaforma e della commissione giustizia, pace e integrità del creato, voglio prima darvi alcuni annunci pratici. Innanzitutto se avete bisogno dell'interpretazione è disponibile in spagnolo italiano, francese e portoghese e potete accedervi tramite il pulsante interpretazione nella parte inferiore dello schermo facendo clic sulla pulsante interpretazione scegliendo la vostra lingua. Uno dei nostri relatori parlerà in spagnolo, per quanto riguarda però i partecipanti lingua italiana potete tranquillamente continuare ad ascoltare il canale che state ascoltando proprio in questo momento. Secondo annuncio questo webinar è appunto strutturato come Zoom Meeting e quindi vi chiediamo di mantenere spenti i vostri microfoni. Il webinar permetterà a tutti di vedersi e ricordatevi che appunto il webinar verrà poi condiviso su YouTube. Se avete poi delle domande durante il webinar tranquillamente inviatele cliccando sul pulsante Q&A. Le domande poste nella chat normale potrebbero andare perse quindi vi chiedo di utilizzare il pulsante Q&A e risponderemo a quante domande possibili. Per ultimo grazie per aiutarci a costruire questa comunità globale vi chiediamo di partecipare in modo pertinente e in uno spirito di rispetto apertura. Se volete consultare la netiquette che avete accettato al momento della registrazione potete farlo al link nella chat. E ora diamo un'occhiata alla nostra agenda. Tra poco avremo una preghiera da parte di suor Titi, un saluto da parte di John Mandela il presidente della direttore della piattaforma e avremo poi un saluto da suor Mamalifara Porego che è una religiosa consegretaria della commissione giustizia, pace e integrità dell'è creato. Catalina anche a questa parte della commissione fungerà da mediatrice per una serie di storie che ci mostrano esempi concreti di azioni. Avremo poi una sessione dedicata alle domande e alle risposte quindi vi invito ancora a condividere le vostre domande. Dopodiché avremo alcuni annunci finali, alcuni saluti da parte di Padre Eroi ed infine una preghiera di chiusura. E ora passo la parola a Suorea Keti che ci guiderà in preghiera. Suorea Keti è una compositrice e compone musica dalla 66. La sua passione è quella di offrire musica che possa contribuire alla guarigione spirituale e le sue canzoni sono utilizzate negli Stati Uniti ma anche in tutto il mondo. Keti collabora soprattutto per la non violenza e a favore della guarigione del nostro pianeta Terra. E collabora con l'Arcidiocesi di Chicago e anche con la piattaforma di iniziative laudatosi. Quindi Suorea Keti fate la parola. Grazie mille Sara e preghiamo insieme. Il grido della terra e il grido dei poveri sono un unico grido. Riuscite a sentirlo? Ascoltate, 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 ascoltate con orecchie, occhi e cuore. Il grido della terra e il grido dei poveri sono un unico grido. Ascoltate, 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 ascoltate. Il mondo in cui viviamo sta collassando e potrebbe essere vicino al punto di rottura. I danni irreversibili alle persone al pianeta sono già in corso e i poveri e i più vulnerabili del mondo stanno pagando il prezzo più alto. La questione del cambiamento climatico è intimamente legata alla dignità della vita umana. Mentre riflettiamo sulle immagini che vedremo tra poco, preghiamo per le nostre sorelle e i nostri fratelli umani e noi e nonna che in tutto il mondo soffrono per l'impatto del cambiamento climatico. Ricordando le parole di Gesù, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. La scelta tra la vita e la morte. Scegliete la vita, così voi e i vostri discendenti potrete vivere. Il divà, il divino e l'umano si incontrano nel più piccolo dettaglio. Tutto l'universo materiale è un linguaggio dell'amore di Dio, del suo affetto smisurato per noi. Quindi, suolo, acqua, montagne, tutto è una carezza di Dio. E quindi, Dio dell'universo, la tua parola e il tuo amore per tutti noi e per tutto ciò che hai creato, ci riempiono di gratitudine e ci chiamano ad amare e proteggere la terra e tutti coloro che la chiamano casa. Siamo la tua amata comunità e come tale promettiamo di dedicare le nostre vite e le nostre energie lavorando insieme affinché tutti possano essere uno. E così, in questo spirito, preghiamo cantando. Prego per il mondo, il tuo, il mio e il nostro, dal momento che esiste un unico mondo. Questo ci fa essere assieme e rende il mondo unico. Prego per il mondo, il tuo, il mio e il nostro, dal momento che esiste un solo mondo. Questo ci riunisce e rende il mondo un mondo unico. Prego per il mondo unico. E con questo diciamo Amen. Amen. Grazie mille, Suor Ketty, è davvero una bellissima preghiera. E ora invito due persone speciali e alcuni dei partecipanti che hanno dei problemi di audio. Ecco, vi invitiamo a rivedere effettivamente le vostre impostazioni. Innanzitutto invito John Mandel, che è il direttore della piattaforma d'iniziativa Laudato Si, e anche Suor Mamalifar, una religiosa ghanese delle fuori missionari di Nostra Signora da Africa. Ed è attualmente col segretaria esecutiva della Commissione Giustizia, Pace e Integrità del Creato. È anche la coordinatrice del progetto Sew in Hope for the Planet, ovvero Seminare Speranza per il Pianeta. Ed è membro del movimento Laudato Si e leader del gruppo religioso per la piattaforma d'iniziativa Laudato Si. Quindi a voi la parola John e Suor Mamalifar. Buongiorno a tutti. Sono davvero felice di essere con voi durante questa settimana Laudato Si 2024 con il tema Semi di Speranza. E questo ci ricorda che ogni giorno possiamo piantare azioni positive nel terreno del nostro pianeta, che se è adeguatamente curato, alimentato, produrrà raccolti abbondanti. Come piattaforma d'iniziativa Laudato Si, continuiamo ad essere ispirati dalle congregazioni e comunità in tutto il mondo e dalle azioni concrete che intraprendono per proteggere e rinnovare la nostra casa comune. È davvero uno dei settori più importanti che fornisce risorse, una testimonianza di ciò che è possibile fare in questo nostro viaggio di conversione ecologica. La piattaforma è un'iniziativa, è una comunità globale online per incoraggiare gli individui, le famiglie, le comunità a riflettere, valutare e definire i propri obiettivi. Fornisce una sorta di struttura per focalizzare la nostra attenzione nel continuare a guarire il nostro pianeta ferito. Tutti sappiamo che se non fissiamo obiettivi specifici per noi stessi o per le nostre organizzazioni, è quasi certo che non riusciremo mai a raggiungerli e ad avere un impatto concreto. Quindi vi incoraggiamo a registrarvi alla piattaforma che ora conta oltre 9.000 gruppi e individui iscritti in sette settori e questi gruppi rappresentano più di 125 milioni di persone, in altre parole circa il 10% della popolazione cattolica. Quindi potreste chiedervi perché unirsi alla piattaforma? Beh, innanzitutto perché diventiamo più credibili quando agiamo. L'azione parla più forte delle parole e siamo anche più efficaci quando agiamo insieme perché l'azione unificata è più visibile e ha un maggiore impatto. Abbiamo anche più probabilità di successo quando ci impegniamo pubblicamente e ovviamente ci ispiriamo a vicenda e lo vedremo oggi. Le azioni locali ispirano una trasformazione a livello globale. E per ultimo ci aiutiamo a vicenda nel comprendere l'urgenza di oggi, vivendo ogni momento e agendo nel presente. Quindi grazie al settore religioso della nostra piattaforma per essere il motore che aiuta tutti noi ad andare avanti per raggiungere un futuro migliore per noi stessi e per il nostro pianeta. Grazie. Grazie mille per questa panoramica su ciò che rappresenta la piattaforma e ora voglio dare il benvenuto a tutti voi che siate qui per questo webinar della settimana l'ha dato sì. Ed è un webinar differente da quelli a cui siamo abituati. In quanto rappresentante del settore religioso posso dire che questo webinar è speciale per tre ragioni. Innanzitutto perché è legato al tema della settimana l'ha dato sì, ovvero semi di speranza. E chi fa parte di comunità agricole sa quanto sono importanti i semi per nutrire la popolazione e gli agricoltori hanno una preoccupazione nell'assicurarsi i semi per la stagione successiva, semi che danno loro speranza ai frutti. Senza semi si può provare un senso di disperazione e di angoscia perché non si può coltivare e questo può sovolta portare alla fame, alla caratteristia e persino alla morte. Questi sono semi che sostengono la vita e nutrono il nostro corpo. Abbiamo però bisogno anche di semi a livello spirituale, quelli che San Paolo chiama i doni dello spirito. E nella sua lettera ai Corinzi San Paolo elenca molti doni dello spirito e dice queste dunque le tre cose che rimangono, la fede, la speranza e la carità, ma di tutte la più grande la carità. E questi doni sono alla base della morale cristiana. La fede ci permette di collegare l'intelletto, il cuore e ci autorizza ad agire in nome di Dio nella nostra vita quotidiana. Quindi la speranza fa scaturire la nostra forza interiore e la nostra perseveranza mentre ci adoperiamo per un futuro che riflette più da vicino al piano di Dio. Quindi esiste una profonda interconnessione tra la fede, la speranza e l'amore. E per riprendere le parole di San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi possiamo essere tribolati da ogni parte, in questo caso dalla crisi ecologica, ma non schiacciati. Siamo sconvolti, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Colpiti, ma non uccisi. Ed è in questo contesto che Papa Francesco utilizza più volte l'immagine della speranza nelle sue encicliche proprio per esprimere la sua importanza nella vita cristiana e sempre in collegamento con la fede e l'amore. E sottolinea la presenza necessaria di persone di fede nel deserto. Appunto di persone di fede che con la loro stessa vita indichino la via verso la terra promessa e ci invita a fare in modo che le maggiori possibilità di comunicazione si traducono in possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti. E dice Papa Francesco sarebbe una cosa tanto buona, tanto risonatrice, tanto liberatrice, tanto generatrice di speranza. Quindi siamo tutti invitati a rinnovare la nostra speranza perché la speranza ci parla di una realtà che è radicata nell'essere umano indipendentemente dalle circostanze e dai condizionamenti storici. Continuiamo quindi a camminare nella speranza. Dobbiamo riconoscere che c'è sempre una via d'uscita e possiamo sempre cambiare rotta, che possiamo sempre fare qualcosa per risolvere i problemi. È solo la speranza che può motivarci a impegnarci per trovare insieme soluzioni adeguate alla crisi climatica. E questo mi porta a parlare del secondo motivo per cui questo webinar è così importante. Si tratta del frutto di uno sforzo di collaborazione tra la piattaforma Sewing Hope for the Planet e la commissione che rappresento e appunto la guida del settore religioso della piattaforma. Abbiamo condiviso le esperienze di coloro che hanno partecipato alla Coppa 28 e come settore religioso abbiamo appunto condiviso le nostre idee e abbiamo concluso sull'importanza di condividere le storie che provengono dalla base per avere un impatto. Questo porta ovviamente al tema del webinar, ovvero voci di speranza e di fede. Le storie motivano le azioni e come dice un proverbo africano se vuoi andare veloce cammina da solo, se vuoi andare lontano cammina insieme. Quindi camminiamo insieme, collaborando, intessendo reti di collaborazione per trovare soluzioni concrete e reali alla situazione della nostra casa comune e dei poveri. E il terzo motivo che menzionavo è che questo webinar mostra il coinvolgimento dei religiosi nel cuore della crisi, agendo ispirati dallo Spirito Santo e per rispondere al grido della terra e dei poveri. Ci sono molte storie a livello di base che a volte vanno aperte perché non vengono condivise con gli altri. E quindi oggi vogliamo dar voce alle persone che lavorano sul campo perché possano condividere come affrontano le sfide climatiche con speranza e fede. Queste storie condivise ci permetteranno di andare avanti insieme. Sono davvero voci e semi di speranza. Quindi celebriamo insieme come semi di speranza all'interno delle nostre comunità per essere testimoni di fede e di amore in modo che la vita possa fiorire attraverso le persone e nella nostra casa comune. Grazie mille, Suora Mamalifar. E ora proseguiamo proprio con alcune di queste storie. E do la parola a Catalina di Noiosa. Grazie mille, Sara. Grazie a tutti. Io sono Catalina, lavoro per la Commissione. e considerando il tempo a nostra disposizione passiamo direttamente a ascoltare le voci delle persone. Io modererò questo webinar. In questo periodo di violenza e di difficoltà possiamo avere paura, ma oggi vogliamo condividere con voi come la fede, la speranza e l'amore e ci permettono di superare la paura. Come sapete abbiamo lanciato una serie di storie per comprendere come le persone affrontano le difficoltà e abbiamo ricevuto 26 storie e oggi ve ne presenteremo 6 dall'Europa, dall'America del Nord, dall'America Latina, dall'Africa, dall'Asia e dall'Oceania, come potete vedere nella diapositiva in sovraimpressione. Le storie non incluse in questo webinar verranno condivise sul nostro sito web, sui nostri social media nelle prossime settimane. Quindi ricordiamoci, ascolteremo tutte queste voci che provengono dalla base, storie che ispirano, storie che ci mostrano come è stato possibile agire concretamente. A volte possiamo pensare, ma la nostra storia è così insignificante, ma è Papa Francesco che ci ricorda che nel Regno di Due tutta la stessa importanza, il seme più piccolo e il seme della vita. E cominciamo con il primo seme a Frascati, Roma. Suora Tiziana Longhitano è un membro delle sorelle francescane e condivide con noi come la conversione ecologica richiede coinvolgimento, trasformazione, ma anche formazione e un cambiamento negli stili di vita, modificando proprio gli stili di vita. E tutto questo mostra un vero e proprio coraggio. E purtroppo Suora Tiziana non è stata in grado di essere qui con noi oggi, ma condividerò io i punti di cui voleva partecipare, di cui voleva parlare. Questa comunità si è resa conto di avere il carisma dei franciscani e ispirati proprio da questo carisma hanno deciso di prendersi cura della casa comune considerandola come un bene dell'umanità. Quindi questa comunità si è chiesta come possiamo preservare questa nostra terra. Beh, hanno agito in molti aspetti. Innanzitutto hanno ridotto l'uso di plastica, hanno utilizzato in modo particolare il sapone. Quindi hanno cercato di comprendere quali sono le circostanze che creano le situazioni in cui ci troviamo per poi cercare di agire di conseguenza. Quindi non ho tempo ovviamente di elencare tutte le azioni, ma Papa Francesco ci dice abbiamo la vocazione di essere protettori del creato di Dio e quindi le suore francescane dei poveri sono convinte che fornendo questa attenzione verso la terra possono rispettare la terra comune, prendersene cura e ovviamente ci piacerebbe condividere di più, ma non abbiamo purtroppo il tempo. Passiamo quindi a Beth Pigus, che è la direttrice delle suore francescane dell'adorazione perpetua, è una madre laica. e vogliamo capire quali azioni hanno messo in atto all'interno della loro congregazione, anche alla luce del loro impegno con la piattaforma L'Adatto Si. Beth, prego, puoi condividere la tua storia? Buongiorno, è un vero onore essere qui con voi oggi. Le suore francescane dell'adorazione perpetua sono una testimonianza del fatto che tutto è un dono dell'amore infinito di Dio ed è per questo che oggi sono lieta di condividere una storia che riguarda un terreno sull'Eccrinale di St. Joseph. Si tratta di 200 acre di terra nel Wisconsin, negli Stati Uniti, ed è una storia che inizia come una proprietà acquistata nel 1895 dalla nostra congregazione da un contadino in modo da poter fornire cibo al convento e all'ospedale. E nell'ultimo secolo il terreno è stato proprio curato dalle suore, da questa nostra congregazione, creando e mostrando il loro amore per tutto il creato come ci insegna San Francesco. E negli ultimi trent'anni le suore hanno lavorato con il personale e con partner esterni proprio come me, oltre che con agricoltori locali, con esperti tecnici, con la comunità per studiare, capire il territorio e cercando di agire in questo terreno sacro e le nostre azioni avvengono proprio all'interno di uno spazio sacro collegato direttamente al bacino idrografico del Mississippi e, come diciamo noi, il potente Mississippi scorre fino al Golfo del Messico e all'Oceano Atlantico, in modo che giunga poi fino a tutti voi. E tutto questo richiede tempo e sforzi per prendersi cura del creato e della creazione in questo nostro terreno, all'interno della nostra comunità, in modo da poter avere un impatto su tutto il pianeta. E nel 2009 le suore hanno redatto una dichiarazione etica su ciò che la Terra rappresenta per loro, ovvero l'opera visibile di Dio. Le suore volevano cercare di proteggere la Terra dai vari sviluppi, hanno in nome proprio della sostenibilità e con quattro principi fondamentali, ovvero l'ecologia integrale, l'ecogiustizia e l'integrazione della vita e anche il rispetto dei poveri. E come vedete dalle foto, le suore e la popolazione hanno collaborato per creare uno spazio che consenta a tutti di condividere e di crescere assieme. La congregazione ha creato anche un cimitero per poter onorare il ciclo sacro della vita e della morte. Abbiamo anche delle serre che ci permettono di insegnare ad altri la produzione del cibo in modo che anche le famiglie possano farlo. E abbiamo anche dei programmi di assistenza tecnica, ma anche di assistenza finanziaria per organizzazioni non governamentali locali. Ovviamente è un grande sforzo, ma è possibile realizzarlo. Abbiamo ovviamente il supporto di moltissimi e quello che potete vedere dalle foto sono proprio le relazioni che abbiamo creato nel sforzarci assieme. Sono sforzi amplificati dall'appello di Papa Francesco nella Laudato Si. Nel 2021 appunto la congregazione si è unita alla piattaforma di iniziative Laudato Si per intensificare le azioni di giustizia sociale e ambientale. ogni anno si riuniscono in preghiera e partecipano anche agli obiettivi appunto della Laudato Si, soprattutto a quelli legati alla giustizia legata alla terra, ai temi anche della conservazione, della rigenerazione e dell'equità, quindi si tratta di trovare un filo comune e ci stiamo adoperando, cercando un collegamento nella storia della terra, rendendoci conto che siamo sulla terra indigena degli Ho-Chak e cerchiamo di collaborare con la popolazione Ho-Chak proprio per imparare e non le nostre storie, per costruire assieme, condividiamo i doni che Sorella Terra ci offre con i giovani e gli anziani Ho-Chak, raccogliendo i frutti degli aceri, coltivando orti. La congregazione quindi condivide la sua eredità di insegnamento ospitando anche dei workshop e esprimendo i valori francescani, sappiamo che possiamo fare di più lavorando assieme e condividendo le nostre storie con gli altri in modo da incoraggiare. Grazie mille, grazie per tutto il vostro lavoro davvero incredibile, soprattutto come riuscite ad integrare gli obiettivi della Laudato Si nella vostra quotidianità. E ora passiamo a un altro luogo di speranza, passiamo al Costa Rica con frate Eric Marin Carbaio che lavora nell'Amazzonia e lavora appunto in Honduras e in altri paesi accogliendo la missione della Commissione a un Master in sviluppo comunitario e si occupa soprattutto dell'evangelazione del servizio sociale e da alcuni anni fa parte proprio di un gruppo itinerario che visita le popolazioni indigene coordinando anche la collaborazione con altre organizzazioni e chiese a supporto del territorio. Quindi diamo la parola a frate Eric Marin Carbaio e il frate parlerà in spagnolo ma voi potete tranquillamente continuare ad ascoltare il canale di lingua italiana. Prego frate Eric a lei la parola. Le chiediamo di attivare il microfono in modo da poter condividere le sue parole. Grazie mille. E proprio come stavate dicendo, questa storia non è solo la mia storia, è un'esperienza condivisa che si sta svolgendo nella Panamazzonia che appunto si riferisce a nove paesi sudamericani su cui si trova una porzione dell'Amazzonia e sto riferendo a 8 milioni di chilometri quadrati a più di 300 comunità indigene e comunità cittadine. E tutto questo è cominciato poco più di due anni fa quando sono arrivato in questa regione e all'inizio facevo parte di una team itinerante, un team costituito da religiosi e religiose di varie congregazioni e paesi ma anche costituito da laici e laiche. ed è molto importante sottolineare questo aspetto perché per molto tempo ci siamo sentiti molto forti facendo parte di questa congregazione e abbiamo cercato di far fronte alle varie sfide e in questo team itinerante abbiamo effettivamente imparato che stare assieme non è solo una necessità di fronte a sfide ma è soprattutto una convinzione che nasce proprio dalla fede e da questa prospettiva il team ha vissuto assieme e vive assieme non in un luogo fisso ma facendo esperienze itineranti tra le varie comunità cercando di porre in contatto le comunità con le istituzioni che possono dare un aiuto al territorio e un esempio di questo è il lavoro che stiamo facendo con la Repam un'organizzazione appunto locale che ci aiuta a costruire una rete che sottolinea il grido della terra il grido dei poveri e queste storie di cosa parlano? beh le storie che raccogliamo parlano di miniere illegali di alberi che soccombono di fronte alla forza dei potenti di animali senza casa senza cibo di popolazioni molte delle quali sono state espropriate dei loro territori ancestrali parlano anche delle acque che ormai sanno di mercurio e di migranti senza casa ma colmi di sogni sono storie che parlano anche di inondazioni e di speranza ma sono anche storie che raccontano di uomini e donne coraggiosi che difendono la vita con la loro stessa vita parlano anche di comunità che si prendono cura delle tartarughe e le liberano successivamente nei fiumi parlano di uomini e corpi che si uniscono per difendere la terra i diritti, le acque e parlano di energie rinnovabili e oltre all'elettricità energie che aprono nuove strade e parlano di una spiritualità profonda connessa con le creature e nel rispetto dei loro cicli quindi parlano di amore e mentre viaggiamo sulle barche mentre camminiamo nella selva o peschiamo per il pranzo comunitario confermiamo che il cammino proposto dall'enciclica Laudato Si è proprio connesso con la visione del cosmo che i popoli originari e con le radici profonde della nostra fede cristiana e quindi possiamo dire che è parte fondamentale della nostra missione è un imperativo etico è una risposta all'angelo che ci annuncia cieli nuovi è una terra nuova dove abita la giustizia e non lo annuncia soltanto ma fa in modo che noi stessi siamo parte di questa promessa e quindi per concludere mi vengono alla mente le parole di un'indigena amazzonica vittima molte volte di minacce dice noi non siamo solo impegnati a sopravvivere ma ci preoccupa il mondo intero non lo conosciamo ma siamo tutti fratelli e la forza e la forza e la convenzione di questa donna ci dà molta speranza grazie mille grazie grazie è davvero incredibile ascoltare quello che fate a livello congregazionale e ora passiamo alla Ghana in Africa abbiamo un seme di speranza piantato dalle sorelle della Santa Croce raccogliendo e riciclando plastica creando così un'economia circolare Suor Comfort Arthur è la direttrice del progetto Soor e Sister Forella Comfort è laureata con un master all'università del Ghana e aiuta con passione la sua congregazione iniziamo con un video e poi passeremo la parola a lei risponderà all'inquinamento da plastica Ghana Africa Occidentale la madre terra protesta per il male che le provochiamo a causa dell'uso responsabile e dell'abuso dei beni Papa Francesco laudato sì paragrafo 2 Soor significa sorelle organizzazione e promozione del riciclaggio ed è un'iniziativa creata dalla commissione di giustizia della Ghana inquinamento da plastica ovunque camminando lungo le strade ogni angolo del Ghana è ricolmo di borse di plastica e il suore hanno voluto agire per salvare la nostra madre terra il nostro modo di agire è quello di impiegare donne vulnerabili e vedove per aiutarci ad accogliere rifiuti di plastica e guadagnano un selario eco e così facendo rimuoviamo anche la plastica dalle strade visitiamo inoltre scuole e parrocchie per fornire loro istruzione e sensibilizzazione sulla questione della crisi climatica e sull'inquinamento da plastica all'interno del nostro paese forniamo a ogni istituzione che visitiamo un contenitore per il riciclaggio e il nostro camion a store raccoglie la plastica raccolta ogni settimana portandola alla capitale dove poi viene riciclata e le materie plastiche ottenute sono poi trasformate in secchi sedie e altri articoli in plastica quindi è nostro dovere assicurarsi di prenderci cura della madre terra perché la terra è un dono di dio e noi siamo i suoi guardiani i guardiani siamo i guardiani di un dono che ci è stato affidato tutti noi possiamo cooperare come strumenti di dio per la cura del creato per maggiori informazioni o per supportare il nostro lavoro visitate il seguente sito web grazie e ora passo la parola a suor comfort prego sì grazie mille e buongiorno a tutti grazie per appunto avermi ospitato oggi voglio ringraziare gli organizzatori per avermi ospitato e per avermi invitato a condividere la mia storia la produzione e l'uso della plastica continuano a crescere in Ghana nel mondo ed è diventata urgente proprio la necessità di gestire i rifiuti e di educare sull'importanza del riciclaggio e suor comfort possiamo chiederle di avvicinarsi magari al microfono in modo da poterla sentire più chiaramente se può gentilmente avvicinarsi al suo microfono ecco perché abbiamo cominciato sor beh nel 2017 abbiamo organizzato un progetto di piccole dimensioni un progetto pilota e oggi operiamo in tutto il sud del Ghana collaborando con oltre 100 scuole parrocchie congregazioni organizzazioni assumiamo donne molti delle quali sono appunto vedove o bisognosi per raccogliere smistare lavare i rifiuti di plastica edochiamo anche e responsabilizziamo le persone con cui lavoriamo attraverso laboratori e vari programmi e Papa Francesco ci lancia un appello urgentemente nella laudato si e nella laudate deum e ci dice se non noi chi può fare questo lavoro sappiamo che altri si rivolgono a noi come una guida come una direzione e il nostro fondatore il beato Cosigno Moreau incoraggiava proprio le donne e gli uomini della Santa Croce a collaborare immergersi nella realtà e in risposta al nostro capitolo generale del 2019 abbiamo effettivamente definito il nostro impegno a rispondere all'appello di Papa Francesco aderendo alla piattaforma di iniziative laudato si quindi ci siamo impegnati a prendere azioni concrete e coraggiose nello spirito della laudato si per affrontare le varie crisi che affliggono il nostro pianeta la nostra casa comune e quando abbiamo iniziato il nostro lavoro di riciclaggio l'abbiamo proprio fatto per rispondere al grido della terra che è uno degli obiettivi laudato si ma man mano che il nostro progetto prendeva forma ci siamo resi conto che il modo migliore per rispondere in modo olistico alla crisi della plastica in Ghana era incorporare tutti gli obiettivi laudato si e quindi diamo lavoro alle donne locali pagando loro un salario equo e giusto per raccogliere la plastica visitiamo scuole appunto parrocchie che hanno bisogno di una educazione ecologica organizzando ad esempio laboratori che sottolineano l'importanza di stili di vita sostenibili alcune scuole hanno appunto creato oggetti riutilizzabili con materiali plastici raccolti per poi rivenderli e in questo nostro programma è stato inserito il tema dell'ecospiritualità che collega il lavoro che svolgiamo nella nostra quotidianità alla nostra fede e quindi ovunque andiamo e dovunque agiamo il nostro obiettivo è quello di dare la possibilità alle persone che serviamo e alle comunità in cui operiamo di essere parte di questo lavoro appropriandosi di questo lavoro e il nostro obiettivo è quello non tanto di essere gli artefici di Sor ma abbiamo l'obiettivo di fare in modo che sia la società a promuovere il riciclaggio e questo inizia proprio con ognuno di voi e di noi grazie mille grazie mille Suor Comfort ad avere una testimonianza incredibile ed è incredibile quello che state facendo a livello di riciclaggio a partire dalla conversione ecologica grazie mille e ora andiamo nelle Filippine in Asio e ascolteremo Reisario un laico che lavora presso la St. Joseph Academy of Las Pignas e la sua è una storia di conversione personale che poi diventa una conversione comunitaria ispirata proprio da una congregazione alle sue spalle ha una laurea in filosofia e comunicazione di massa è diventato un un professore formalmente e anche un leader ecologico che agisce proprio all'interno di un'iniziativa che ha luogo alla Spignas a te la parola Reis grazie grazie Catarina e grazie a tutti buonasera ormai è già sera qui nelle Filippine e prima di cominciare con questa diapositiva voglio ringraziare tutti ed è un onore essere stato scelto per questo webinar vi sono grato per questa opportunità di poter condividere la mia storia quindi io sono cresciuto in una grande fattoria dove ho imparato una lezione importante che è la cura della terra e il lavoro duro e i miei nonni mi hanno insegnato questi valori e io e i miei fratelli non ci siamo limitati a guardare ma abbiamo sempre aiutato e questo coinvolgimento ci ha fatto sentire responsabili e legati alla natura la fattura la fattura diciamo questa fattoria era come un parco giochi per noi e ci piaceva lavorare con gli animali esplorare le montagne e tutte queste attività ci hanno mantenuto sani e felici e ci ha permesso anche di avere molti ricordi cari quindi ogni giorno c'era una nuova una nuova avventura avventure che mi hanno insegnato lezioni preziose per oggi e quindi crescere in questo contesto mi ha aiutato a capire il legame con la terra come la terra ci plasma e dopo la scuola superiore nel 92 ho sentito il desiderio di fare la differenza quindi ho lasciato la provincia in cui vivevo e mi sono diretto a Manila per cercare di comprendere vari problemi ambientali quindi mi sono unito a vari gruppi locali che mi hanno fatto capire in molti problemi ambientali e come poterli affrontare e questo appunto mi ha portato a scegliere poi il seminario e nel 93 ho appunto iniziato il seminario dove ho trovato un luogo in cui potevo combinare le mie preoccupazioni con valori spirituali sono stato ispirato dagli insegnamenti di San Francesco nel diffondere l'importanza di proteggere la natura soprattutto tra coloro che hanno poche risorse nel 98 però ho deciso di lasciare il seminario e non è stato in realtà un passo indietro ma è stato un passo avanti perché volevo agire non volevo limitarmi a parlare quindi in quel momento ho deciso di concentrarmi per lottare contro la povertà contro le questioni ambientali e quindi era un cambiamento significativo che dimostra come fossi pronto ad avere un impatto reale e nel 99 sono diventato un catechista volevo non solo agire ma volevo insegnare e volevo insegnare non solo la religione ma volevo insegnare a prenderci cura del nostro pianeta e quindi nelle mie lezioni collego o collegato la spiritualità con la natura con le varie attività per proteggere l'ambiente nonostante alcune resistenze da parte degli studenti e dai genitori sono riuscito a creare vari modi per rendere le mie lezioni interessanti sono riuscito a ispirare i miei studenti a prendersi cura dell'ambiente in modo da creare un futuro migliore per tutti noi nel 2003 sono entrata a far parte della St. Joseph's Academy o la Spignas e uno dei nostri obiettivi principali è quello di trasformare i membri in agenti di cambiamento all'interno della società e questa missione mi ispira e mi sostiene nel mettere in azione il programma La Dato Si che è cominciato appunto nel 2018 ed è un programma ispirato dalla lettera di Papa Francesco sulla cura dell'ambiente e il nostro obiettivo non era solo quello di informare ma di far sentire gli studenti responsabili della protezione del pianeta e ispirarli all'azione soprattutto in risposta al grido della terra e al grido dei poveri e il programma ha avuto un gran successo e questo dimostra l'importanza dell'educazione gli studenti sono diventati più consapevoli più coinvolti nella protezione dell'ambiente contribuendo così a creare un miglior futuro per tutti e questa iniziativa ha quindi creato l'iniziativa Giardini Laudato Si che sono diventati proprio delle aule ad aria aperta dove gli studenti gli insegnanti e i genitori lavorano assieme durante la pandemia questi orti questi giardini si sono estesi oltre la scuola estendendosi anche a case a cortili fornendo cibo fresco alla comunità che hanno insegnato alle piccole comunità l'importanza di piccoli cambiamenti quindi il nostro lavoro con i giardini Laudato Si ci dimostra l'importanza del nostro impegno nel prenderci fuori dell'ambiente e il raccoltere gli ortaggi per esempio gli ortaggi coltivati non è solo una questione di fornire cibo ma è un simbolo della nostra dedizione nella mantenere vivo il rapporto con la natura e quindi ho invitato i miei colleghi e anche gli animatori Laudato Si a parlare con gli studenti della scuola secondaria delle difficoltà ambientali in modo che potessero anche comprendere l'appello di Papa Francesco e cerchiamo anche di utilizzare social media per incoraggiare le persone a partecipare all'attivismo e riflettendo su queste mie esperienze vedo una storia che può ispirare un movimento più ampio per la cura dell'ambiente è un invito all'azione per tutti dobbiamo agire utilizzando energie rinnovabili riducendo rifiuti sostenendo politiche a favore del pianeta dobbiamo insegnare alle nuove generazioni a prendersi cura della terra e fornire loro gli strumenti per farlo quindi collaborando organizzando iniziative sia a livello locale nazionale o internazionali come ad esempio il movimento l'ha dato sì possiamo avere un impatto significativo quindi la nostra sfida la sfida che dobbiamo affrontare ad esempio le ondate di calore si ricordano proprio l'urgenza dell'azione ambientale per poter proteggere le nostre comunità e l'ambiente quindi in questo cammino cerchiamo di educarci cerchiamo di promuovere il cambiamento e di agire concretamente per la nostra casa comune perché insieme possiamo creare un mondo più sostenibile e più equo per tutti grazie per avermi ascoltato grazie mille rai il lavoro che avete fatto davvero incredibile così come la tua conversione individua ed è importante anche tutte le azioni che avete intrapreso e ultima storia ma ovviamente non meno importante è una storia che viene dall'oceania delle suore di del San Giuseppe del Sacro Cuore e in particolare con Suor Marianne Casanova che è anche una educatrice una comunicatrice e si sforza proprio di agire attraverso l'educazione parlando appunto e organizzando iniziative ecologiche pratiche spirituali e vediamo il video che ci ha inviato che ci ha inviato Vediamo, aspettiamo un attimo e ovviamente grazie anche ai tecnici che ci supportano da dietro le quinte in questi momenti e ovviamente tutte queste nostre storie che avete sentito oggi verranno pubblicate sul nostro sito web. Vediamo, benissimo, buongiorno, benvenuti in Australia, sono suor Marian Casanova, sono la responsabile del progetto per il piano di iniziative Lavato Si e mi trovo nel parco del convento di Kensington, nella Ladellaide, che è un luogo di spiritualità e significato culturale per la popolazione locale ma anche per la comunità di San Giuseppe e le storie di San Giuseppe sono state fondate nel 1860 e siamo state create per soddisfare le esigenze di questo paese vasto e diversificato e abbiamo una reputazione per l'azione pratica. L'Australia è una terra di contrasti da est a ovest, da nord a sud, dalla costa all'entroterra e la mia famiglia di agricoltori nel sud dell'Australia sta attendendo la pioggia per nutrire le loro culture, pioggia che purtroppo si fa attendere. In altre regioni dell'Australia, invece, stiamo aspettando che le piogge fuori stagione terminino e questi segni della crisi climatica sono dovunque e i nostri fondatori, Sam Mary MacGillop e Julian Teninos, continuano a ispirarci a rispondere alla crisi climatica. Noi cerchiamo di supportare i nostri leader nel promuovere una coscienza ecologica ed è stata la nostra priorità per decenni. Continuiamo a lavorare su progetti pratici, come ad esempio l'installazione di pannelli solari o la transizione verso veicoli ibridi o elettrici, ma la nostra principale preoccupazione è la conversione ecologica, una conversione che non può essere quantificata e che si svolge nei nostri cuori attraverso i nostri atteggiamenti. Nell'ultimo anno abbiamo condotto una campagna sulle plastiche morbide e abbiamo scelto le plastiche morbide perché all'epoca l'industria del reciclaggio delle plastiche morbide era proprio sull'oro del collasso. Io, come moltissime altre persone, raccoglievo diligentemente la plastica, ma ho poi scoperto che non c'era alcun riciclaggio, la plastica veniva ammassata in discariche. Quindi c'era e c'è un bisogno evidente di informazioni e di creare fiducia nel reciclaggio e la nostra comunità può effettivamente aiutare a ripristinare la speranza cercando di parlare di temi importanti. Ad esempio abbiamo organizzato una mostra e io sono stata davvero incoraggiata dai molti video, dalle molte storie online in cui altre suore hanno condiviso le loro iniziative, le loro azioni, hanno condiviso moltissimi esempi di sforzi di riciclaggio, ad esempio attraverso il riciclaggio delle bottiglie per bibite, tappi di materia organica e ci sono poi anche altri modi in cui hanno ridotto le microplastiche, ad esempio cambiando il modo di fare il bucato, riciclando tessuti in modo creativo. Le scuole stesse hanno organizzato dei progetti artistici per ridurre e riciclare la plastica contenuta nelle bottiglie delle bibite. È davvero bello vedere i giovani che prendono l'iniziativa e tutto questo ci mostra che le azioni quotidiane, le nostre scelte sono importanti ed è importante anche fornire delle risorse. Durante questa campagna sulle plastiche morbide abbiamo suggerito tre forme di azione, l'azione contemplativa, l'azione comunitaria e l'advocacy. Abbiamo incluso molti link a organizzazioni e petizioni per risolvere appunto il problema della plastica e questa campagna però si è concentrata anche sulla conversione personale e la nostra, una nuova nostra campagna si chiama Speranza Urgente e l'obiettivo è quello di includere la conversione a livello di sistema, a livello comunitario e abbiamo cinque pacchetti di risorse per la conversione che stiamo preparando. Innanzitutto queste risorse ci permettono di sottolineare l'importanza e l'urgenza della crisi climatica, quindi si tratta di un appello a tutti. parliamo poi anche di altri problemi legati alla salute. Esploriamo anche temi come quello dei rifugiati climatici per comprendere la natura di questo problema e cerchiamo anche appunto di abbracciare questi problemi di cui parliamo. Cerchiamo quindi di adottare aspetti di cui Papa Francesco stesso ci parla e quindi tutti coloro che partecipano a questa campagna sono incoraggiati a collegare i temi di cui parliamo con la loro fete e dopo aver abbracciato questi temi passiamo poi alla parte dell'incarnarli questi temi riprendendo l'appello di Papa Francesco e come dicevo queste forme di azione che abbiamo suggerito sono di natura contemplativa comunitaria e di advocacy. Io spero che questo mio ruolo possa fare la differenza. Grazie, grazie mille e grazie davvero per queste storie incredibili di fede e di speranza che ci ispirano. Ovviamente come vi dicevo tutte queste storie potranno essere trovate sul nostro sito web quindi vi invito a visitarlo più e più volte e passo di nuovo la parola a Sara e grazie a tutti i nostri relatori. Sara a te la parola. Grazie mille Catalina, grazie appunto a tutti i nostri relatori, ho visto moltissimi commenti mentre i nostri relatori condividevano le loro storie, ho visto commenti di ispirazione, di gratitudine, di gioia e ovviamente potremmo continuare ad ascoltare storie di questo tipo all'infinito ma abbiamo quasi terminato il nostro webinar e abbiamo un altro annuncio che verrà condiviso da Suor Constance e Suor Constance fa parte della figlia di Maria Ausiliatrice, attualmente a Roma e proviene dall'Olzambia e ha collaborato anche con la Conferenza Episcopale dell'Olzambia e anche un'animatrice l'ha dato sì e non vediamo l'ora di ascoltare le sue parole. Grazie mille Sara e vi invitiamo a una sfida della durata di un mese ispirata dagli obiettivi l'ha dato sì e in questo nostro viaggio questo nostro viaggio ci permette di collegare la settimana l'ha dato sì con il tempo della creazione e quindi collegando il tema dei semi del creato con quello poi del tempo della creazione e quindi vi invitiamo dal 23 giugno al 23 luglio a unirvi in questo sforzo di collaborazione che è organizzato dalla Commissione Giustizia, Pace e Integrità del creato e della piattaforma di iniziative l'ha dato sì e si tratta di un'attività ispirata dalle azioni suggerite proprio dalla piattaforma di iniziative l'ha dato sì e in cosa consiste? Beh vi invitiamo a selezionare le azioni che siete in grado di attuare durante questo mese e quindi la sfida mira proprio a incoraggiare tutti voi a intraprendere o a continuare questo viaggio di conversione verso l'ecologia integrale e considerando la diversità dei nostri contesti ognuno deve cercare di fare ciò che può l'importante è però fare qualcosa e non fermarsi quindi continuare ad agire a favore della nostra casa comune e ricordatevi di condividere le vostre storie, le vostre foto, i vostri video attraverso il modulo Google apposito e anche sui social media in modo da poter ispirare anche gli altri grazie al vostro viaggio personale e considerate anche gli esempi forniti sulla piattaforma per come potete rispondere ai sette obiettivi e quindi aspettate di ricevere informazioni via mail su appunto i dettagli di questa sfida e ricordatevi che l'obiettivo di questa azione come ci dice Papa Francesco non è quello di raccogliere informazioni o saziare la nostra curiosità ma diventare dolorosamente consapevoli osare, trasformare ciò che accade nel mondo in sofferenza personale riconoscendo così qual è il contributo che ciascuno di noi può apportare grazie mille grazie mille for Constance sicuramente aspettiamo di ricevere maggiori informazioni a riguardo ora voglio invitare Padre Roy Thomas per un breve saluto Padre Roy è membro della Società del Verbo Divino è il consegretario esecutivo della Commissione Giustizia Pace e Integrità del Cariato ha una laurea in Economia e Commercio e un diploma post laurea in Diritti Umani e Lavoro Sociale ed ha lavorato ampliamente per la giustizia sociale in varie aree Padre Roy la invitiamo a prendere la parola grazie mille cari amici grazie a tutti voi che vi siete sintonizzati da vari continenti ci apprestiamo alla fine di questo nostro webinar e sono davvero colmo di gratitudine e ottimismo e stiamo celebrando la settimana in base al tema Semi di Speranza e ritengo che questa sia stata proprio una celebrazione una celebrazione a livello globale abbiamo ascoltato storie di individui, di comunità che hanno abbracciato lo spirito della Laudato effettuando dei cambiamenti nelle loro vite, nelle loro comunità voglio estendere i miei ringraziamenti ai nostri relatori che hanno condiviso le loro speranze il vostro impegno nell'implementare gli obiettivi della Laudato sì, non è solo lodevole ma è proprio anche un simbolo di speranza per tutti noi siete davvero dei semi di speranza per uno futuro migliore e più sostenibile quello di cui abbiamo bisogno oggi più che mai è una conversione una conversione che sia innanzitutto personale e che sia poi comunitaria a livello di società per poi giungere a una conversione sistemica ottenendo quindi una conversione in cui la speranza sia centrale e nel concludere cerchiamo di riunire questi nostri femmi di speranza e cerchiamo di ripiantarli nelle nostre comunità attraverso le nostre azioni vediamoli crescere come simbolo del nostro impegno per la cura del creato continuiamo a coltivare la speranza nei nostri cuori e determinazione nelle nostre azioni in modo che un futuro migliore sia non solo una speranza ma una realtà quindi grazie ancora ai nostri relatori ma anche a coloro che hanno organizzato questo webinar e spero che possiamo lavorare assieme ancora in futuro nello spirito della laudato sì cercando di raccogliere i frutti Mahatma Gandhi ha detto sì il cambiamento che vuoi vedere nel mondo e dunque incominciamo il cambiamento a partire da noi stessi grazie mille e che Dio benedisca tutti i nostri sforzi grazie mille Padre Eroi e grazie davvero a tutti i nostri ospiti al team di coordinazione che ha fatto ha lavorato moltissimo per raccogliere tutte queste nostre storie grazie al team tecnico grazie agli interpreti tutti voi avete reso questo webinar possibile grazie a tutti coloro che si sono collegati a livello globale se volete iscrivervi alla piattaforma nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto visitate il sito www.piattaformadiniziativa.si.org se vi siete già iscritti non dimenticatevi di condividere i vostri piani annuali e non dimenticatevi anche di condividere le vostre storie di successo inviandoci una mail a info.laudato.siactionplatform.pro e vi aspettiamo il 6 giugno per il prossimo webinar che è intitolato integrare la cura del creato nella vita della Chiesa e quindi cercherà di identificare le aree di miglioramento all'interno delle iniziative ecclesiastiche quindi non vediamo l'ora di rivedervi il 6 giugno e ora invito Steven Salido che reciterà la preghiera di Chiusura e Steven è in collegamento oggi da Città del Messico grazie mille Sara nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen Dio ti ringraziamo per l'opportunità di aver ascoltato queste storie che queste storie ci invitino a continuare ad agire in nome dell'amore, della fede e della speranza prendendoci cura della nostra casa comune e queste nostre storie possano testimoniare il nostro amore per la terra e quindi che queste storie possano guidarci nel nostro cammino futuro Amen Grazie mille Steven grazie a tutti vi auguriamo una buona continuazione e anche una buona continuazione della settimana l'ho dato sì grazie mille a tutti è stato davvero un piacere poter vedere tutti i vostri volti e se volete potete attivare il microfono e salutare nella vostra lingua un cammino a tutti grazie grazie a tutti